Una Sinca Ariane del 1961 e accanto una Chrysler 300 del 1966, due gioielli in mostra con tanti altri. Questa mattina in Piazza Repubblica è andata a scena con sottofondo di musica l'iniziativa Metiche in piazza, raduno promosso da club VAMS Varese Auto Moto Storiche. Decine le auto di oltre 20 anni d'età che hanno deliziato il solito consueto affollamento di appassionati curiosi. L'iniziativa oggi ha avuto anche un significato solidale. I partecipanti e gli spettatori sono stati infatti invitati a portare cibi non deperibili da donare alla mensa Caritas di Varese.